Prosegue la marcia di avvicinamento del Teramo verso il quasi derby di sabato ore 18.30 in casa della San Benedettese. Tra i sostenitori biancorossi cresce l'attesa per il match da Riviera delle Palme. Fino a ieri erano stati venduti 103 tagliandi d'ingresso. Pausa di riflessione sul mercato, anche se il nome più gettonato per rinforzare l'attacco, resta Saveriano Infantino. Sull'ex Aquilano, in uscita dal Catanzaro, ci sono però anche altre società come Alessandria Potenza Viterbese. Sul fronte partenze non si è sbloccata la situazione del terzino Mastrilli, per il quale resta in pole position il Bisceglie. Sarà una trasferta ostica per gli uomini di Maurizzi, che continuano ad allenarsi con impegno. Caidi ha smaltito l'influenza ed è tornato regolarmente in gruppo e sarà della gara sabato. Ha lavorato con i compagni anche l'attaccante di Renzo. Restano fuori invece Speranza e Barbuti, ancora non al meglio della condizione. Intanto per oggi è in programma la riunione del comitato etico della Lega Pro per fare il punto della situazione sul caso di Matteo, l'imprenditore di origini casertane, che non ha ancora ufficialmente assunto la carica di socio al 20% e di amministratore delegato del Teramo, tuttavia ieri era allo stadio e ha assistito all'allenamento della squadra. a dirigere San Benedettese Teramo sarà un fischietto siciliano, Alberto Santoro della sezione di Messina.